Oggi dedicato alla cronaca, dedicato anche a un aspetto di attualità perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi un incendio anche abbastanza importante che ha interessato il Monte Bollettone per fortuna fermato in tempo dai vicini del fuoco ma anche da questi signori che sono qua con noi uno di loro è qua con noi questa sera, un altro è collegato via Skype che sono i volontari antincendio lunga vita a voi e grazie di esserci perché in effetti per questo e per altri episodi i volontari sono fondamentali Saluto Andrea Citeroni del gruppo volontario antincendio di Tavernerio che è qui a parlarci anche di un open day che domani sera si svolge all'auditorium al centro Livatino di Tavernerio Ciao Andrea, intanto buona serata Buonasera a tutti, sono Andrea Citeroni volontario del gruppo AIB Tavernerio Antincendio Boschivo Viva Dio che ci siete, ho detto perché poi a volte anche in questi casi come quello di sabato ma poi ne parliamo tra poco, siete arrivati mi dicevi subito e quanto mai importante è la vostra presenza sul territorio perché lo conoscete bene il territorio voi il territorio lì del triangolo lariano, delle prealpi diciamo Esatto, diciamo che l'intervento di sabato pomeriggio che si è svolto sul Monte Bollettone siamo stati noi di Tavernerio la prima squadra AIB a intervenire seguita poi da altre squadre, Civenna, Cornizzolo, Erba e siamo stati determinanti nel riuscire a fermare l'incendio e evitare che scendesse e interessasse dopo il paglione anche il bosco quindi siamo riusciti a fermare l'incendio nel punto in cui si vede da lontano perché purtroppo è rimasto il segno sulla montagna Eh sì, ho visto, l'ho visto proprio un altro giorno, si vede abbastanza è evidente tutto questo segnale, purtroppo sì comunque bravi di essere intervenuti Sì, bravi perché è qualche anno che lo facciamo E perché conoscete il territorio Conosciamo il territorio, operiamo sotto il cappello, diciamo così, della comunità montana Triangolo Lariano che ci supporta tantissimo ed è da tanto che lo facciamo, specialmente noi di AIB Tavernerio che quest'anno festeggiamo il trentennale Trent'anni me l'hai detto prima, esatto, questo è molto importante Allora, velocissimo e poi passiamo alla tua collega che è collegata via Skype, così poi dopo la liberiamo Ecco, questo è l'open day, la locandina Andrea dell'open day di domani sera a Tavernerio al centro civico, ecco lo faccio vedere Il mio risorgimento Il mio risorgimento a Tavernerio domani sera Perché? Perché poi se c'è qualcuno che vi vuole dare una mano che vuole dire ho del tempo, lo posso dare voi lo accogliete a braccia aperte Come l'altro giorno sono venuti i ragazzi della Croce Rossa di Lipomo e hanno detto, se viene qualcuno volentieri ma anche voi, no Andrea? Certamente, la motivazione dell'open day una delle motivazioni è proprio quella di trovare, cercare nuovi volontari da inserire, prima di tutto perché è l'elemento fondamentale in quello che è la protezione civile la grande famiglia della protezione civile e poi, chiaramente, nel nostro gruppo con la specializzazione antincendio boschivo ma come gruppo, come AIB Tavernerio non ci limitiamo solo a fare antincendio boschivo facciamo anche altre attività attività prevalentemente di protezione civile e poi Claudia, che è qua con noi se non fisicamente ma è collegata con noi via Skype adesso andiamo a... ci parlerà di quello che lei fa specificatamente sotto il cappello della protezione civile all'interno della grande famiglia sono nuove iniziative molto belle molto interessanti e molto importanti e allora, se permetti, io andrei subito da Claudia che è collegata, eccola qua, via Skype Claudia Losa, anche lei dell'antincendio Tavernero Claudia, ciao intanto, buonasera ciao ragazzi, ciao a tutti e grazie ma grazie a te di esserci e diceva Andrea che fai tante cose importanti anche tu per esempio, un'iniziativa che si chiama Io non rischio prego Claudia, accennane pure grazie sì, allora, tutte queste cose che faccio le faccio grazie anche al mio gruppo che veramente mi sostiene quindi l'importanza di essere gruppo l'importanza di avere un obiettivo comune che è quello proprio della divulgazione di quella che è la protezione civile e in questo senso più che dire cosa sia Io non rischio mi piace dire perché Io non rischio e per spiegarlo brevemente ma con passione e con senso vi dico che non bisogna fare presto ma bisogna fare prima e questa frase non l'ho detta io ma l'ha detto il papà l'ha detta il papà della protezione civile Zamberletti perché? perché occorre fare prima? lo spirito di questa campagna che è una campagna nazionale che nasce nel 2012 è proprio quello di prevenire quindi io posso cercare di evitare di mettermi in situazioni rischiose o quantomeno di mitigare il più possibile nel momento in cui io conosco quindi se conosco posso poi comportarmi in maniera corretta quindi questa campagna che dallo scorso anno si sviluppa durante tutto l'anno è una campagna nazionale i volontari che scelgono di diventare comunicatori incontrano i cittadini perché alla base di tutta questa forza c'è il cittadino il cittadino che è sempre più consapevole un cittadino che conosce il proprio territorio e quindi chi meglio dei volontari che fanno parte di un gruppo di un'associazione sul territorio possono informare trasferire quella che è la conoscenza dei rischi presenti sul territorio ma infatti è quello che stava dicendo Claudia pochi attimi fa anche Andrea che è qua con me in studio e diceva stavamo facendo riferimento all'incendio l'ultimo quello di sabato sul bollettone ecco questo è l'esempio forse più calzante anche se era meglio che non ci fosse ma comunque l'esempio è più calzante di come i volontari sono fondamentali ma questo non ci stancheremo mai di ripetere perché poi conoscono benissimo il territorio sanno dove andare cosa fare quindi Claudia magari ricordiamo anche con te che è importante domani magari venire lì almeno a sentire domani sera che cosa fate in parte lo state già facendo questa sera però magari domani lo spiegherete meglio no Claudia assolutamente anche adesso in questo momento con te grazie a te e con Andrea e con tutto il gruppo antincendio stiamo facendo prevenzione perché stiamo parlando ai cittadini e domani sera davvero avremo modo di spiegare ancora più nel dettaglio oltretutto quest'anno io non rischio iniziativa nazionale comprenderà anche il rischio antincendio boschivo e quindi noi ci siamo dentro proprio intorno altra iniziativa che abbiamo iniziato quest'anno con Regione Lombardia questo è un progetto che veramente mi sta molto a cuore ci sta molto a cuore è il progetto SAS sto al sicuro quindi la protezione civile incontra scusate il mondo della disabilità e per noi è veramente una grande ricchezza è un è un progetto di grande sensibilità e di rispetto a noi volontari mancava questa parte conoscere il mondo della disabilità che non è solo una disabilità fisica ma anche una disabilità a livello cognitivo quindi il volontario viene passatemi i termini istruito su come si deve si dovrebbe comportare nel momento in cui interviene in un'emergenza con persone con disabilità e questo è bella questa cosa brava Claudia che ne hai anticipata l'hai comunque accennata eh sì perché in effetti è una novità che il mondo del volontariato il mondo insomma va a incontrare quello della disabilità però c'è il cappello della regione Lombardia quindi mi sembra altamente importante Claudia quindi se vuoi accennarla ancora velocemente poi chiaramente ne parlerete domani lì a Taverneri e poi andiamo a chiudere con Andrea prego Claudia regione Lombardia da qualche anno insiste su questo punto e eh abbiamo iniziato qualche mese fa con due eh centri l'associazione noi genitori e l'associazione gruppo primavera di ehm Alba Villa con e qui mh è forte il discorso del gruppo e della collaborazione tra gruppi diversi ma uniti con la protezione civile di Alba Villa Erba Laghi Antincennio Boschivo Tavernerio abbiamo eh fatto due incontri in ognuna di queste io le chiamo case abbiamo incontrato un gruppo di dieci ragazzi con disabilità cognitiva eh in collaborazione con l'ufficio di piano del comune di Erba servizi alla persona è veramente un un grande progetto una grande forza ci stiamo muovendo è tutto perfettibile è tutto per carità ma davvero l'importanza per noi volontari di eh camminare essere davvero compagni di passi con queste persone e con le loro famiglie assolutissimamente perfetto direi che eh ecco questo è un aspetto molto importante eh non lo conoscevo ma grazie di averne parlato e grazie davvero appunto perché è una qualcosa di davvero meritevole allora Claudia andiamo a chiudere adesso con Andrea che è qua in studio intanto io ti ringrazio di essere stata con noi in questo collegamento via Skype e ricordiamo ancora anche con te che che chi vuole che chi ha del tempo libero lo cercavano lo cercavano gli amici della Croce Rossa l'altro giorno ma anche voi insomma siete alla ricerca anche di forze nuove no Claudia ecco le aspettate domani sera a Tavernerio vi aspettiamo tutti perché come si usa dire l'unione fa la forza grazie perfetto grazie Claudia sei stata cortesissima un caro saluto a te torniamo qui in studio con Andrea Citeroni e e chiudiamo eh sì aspetta che puoi salutarla ti sente ok Claudia perfetto allora lei ti sente ma non ti vede in questo momento allora Andrea eh abbiamo sentito Claudia abbiamo sentito questa bellissima iniziativa che coinvolge voi come IBE Antincendio Boschivo no sta per Antincendio Boschivo la nostra mission iniziale è questa è che Claudia diceva ehm l'Antincendio Boschivo poi è la cosa fondamentale perché poi eh voi operate nella zona dove di incendi purtroppo in questo periodo la prolungata siccità ne abbiamo parlato in questi giorni in tutte le salse ecco è un periodo critico sì questo è il periodo delicato dove bisogna stare veramente attenti anche a chi va nei boschi essere responsabili esattamente bisogna essere molto responsabili perché eh gli incendi al nord Italia avvengono prevalentemente in questo periodo mentre nel sud Italia avvengono nel periodo estivo quindi questa è la differenza principale eh certo ci vuole molta attenzione ci vuole molta prevenzione che è quella che comunque noi mettiamo in campo costantemente la prevenzione passa anche attraverso il mantenimento in uno stato di pulizia di percorribilità delle strade dei sentieri del nostro territorio territorio non dimentichiamolo delicato quindi servono braccia e da qua l'open day servono braccia perché c'è molto da fare il territorio non è enorme ma è comunque un territorio grande è un territorio dove bisogna muoversi più delle volte a piedi e cosa cerchiamo chi cerchiamo cerchiamo delle persone che innanzitutto abbiano quella predisposizione a fare del volontariato che è fondamentale e che ovviamente abbiano anche buona attitudine a camminare e ad estreggiarsi abbastanza bene in un ambito boschivo ecco nel frattempo Andrea mentre tu stai parlando ne approfitto dal vostro pagina di facebook sto facendo vedere delle immagini che si riferiscono proprio all'incendio di sabato sul bollettone con delle immagini anche abbastanza impressionanti alcune con le lingue di fuoco siete riusciti a fermare tutto giusto? come lo avete fatto? come siete riusciti? allora siamo riusciti arrivando tempestivamente sul posto perché siamo stati come ripeto come ho già detto prima la prima squadra AIB ad intervenire abbiamo messo in atto quelle che sono le tecniche che impariamo e che costantemente mettiamo in atto nelle esercitazioni l'ultima è stata fatta a dicembre dello scorso anno ma oltre a questo quindi l'intervento immediato è quello dello spegnimento la priorità è quella ma abbiamo fatto poi anche un secondo intervento la mattina successiva a domenica domenica mattina e lì che cosa abbiamo fatto? abbiamo utilizzato quelle che sono le nuove tecnologie a spegnere l'incendio abbiamo usato i soffiatori e i badili che sono l'ABC poi c'è stato anche l'intervento comunque dell'elicottero che ci ha dato una grossa mano ma domenica mattina abbiamo fatto infatti vedo che state ci sono anche i vigili del fuoco ma ci siete anche voi con i soffiatori perché il soffiatore uno dice ma il soffiatore non è che lo alimenta no lo so è una domanda da profano scusa può alimentarlo dipende come lo usi devi saperlo usare quindi fare il corso venire a fare il volontario impari anche a usare il soffiatore non solo per il giardino di casa non solo per quello esatto ma anche per spegnere il fuoco esatto anche per spegnere il fuoco e la domenica mattina molto interessante abbiamo invece utilizzato delle nuovissime tecnologie perché come gruppo AIBita Vernerio ci siamo dotati lo scorso anno di uno strumento tecnologico alquanto avanzato che sarà un drone ah ok un drone molto bello un drone che partendo dall'alpe del vicerea dalla piazzola dell'elicottero che tra l'altro teniamo pulita perché deve essere agibile gli elicotteri in caso di soccorso abbiamo fatto decollare il nostro drone abbiamo una squadra specializzata in quello siamo saliti fino al bollettone quindi alla zona dell'incendio abbiamo visionato con la visione della telecamera del drone e sembrava tutto a posto e poi se vai a scorrere nelle immagini che abbiamo pubblicato anche sulla nostra pagina facebook noterai due immagini molto differenti fra loro perché una ci fa vedere la zona interessata all'incendio vicino al rifugio esatto questa qua è proprio fatto con la telecamera cioè il drone questo è questo giusto ah ecco sì questo esatto lo stiamo facendo vedere in questo momento e si vede una visione questa è la visione normale quindi sembra tutto perfettamente in ordine sembra che il fuoco insomma sia stato domato invece poi abbiamo cambiato la visione della telecamera in infrarossi e sono emersi dei focolai sono emersi dei focolai quindi c'era ancora del fuoco beh anche la tecnologia al servizio è molto importante questa cosa quindi è divertente stare in protezione civile perché è divertente io credo che magari qualcuno sia incuriosito l'abbiamo incuriosito stasera speriamo di sì davvero perché utilizziamo anche questi strumenti e questi strumenti ci ha permesso poi nell'immediato di tornare sul luogo dell'incendio e intervenire e quindi metterlo totalmente in sicurezza quindi è stato l'uso prima delle tecnologie vecchie gambe pala badile soffiatore esatto soffiatore e spegniamo e mettiamo in sicurezza esatto però poi con le nuove tecnologie siamo ritornati sul posto dove dove si era verificato l'incendio abbiamo concretamente messo in sicurezza abbiamo parlato di una cosa molto interessante credo questa sera davvero ti ringrazio del tuo contributo che ci hai portato sono molti che ci salutano Luigi ciao Clara Francesco grazie complimenti bravi ragazzi siete davvero importanti quindi tanti complimenti che arrivano proprio per quello che fate per quello che la protezione civile l'antincendio boschivo in questo caso di Tavernerio sta facendo e continua a fare allora noi per chiudere il nostro incontro di questa sera visto che Andrea Citeroni è venuto qui a trovarci anche per questo però soprattutto quindi Andrea ricordiamolo ancora giovedì cioè domani 21 al centro civico Livatino di Tavernerio in mio risorgimento questo open day che voi avete organizzato di tutto quello che abbiamo parlato questa sera se ne parla domani giusto diffusamente ne parleremo approfonditamente non parleremo solo di questo anche di altri argomenti e sarà una serata sicuramente interessante anche perché le persone che interverranno durante la serata sono persone con estrema competenza con tante cose interessanti da dirci per invogliarci a entrare in protezione civile e in AIB Tavernerio è un gruppo come ripeto quest'anno festeggia il trentennale di fondazione chiaro Andrea che l'invito in questo caso specifico è a quelli che abitano comunque nella zona diciamo concentra Tavernerio Albese Albavilla anche anche Como voglio dire anche Como perché no Alzate Orsenico insomma tutti quei comuni che gravitano attorno a Tavernerio alle pendici delle prealpi diciamo del triangolo lariano ecco esatto io direi che abbiamo spiegato e detto tanto quindi domani ancora l'ho fatto già vedere domani sera alle 21 questo open day con appunto l'antincendio di Tavernerio ODV gruppo volontario antincendio di Tavernerio lo vedete questa è la locandina ufficiale che oggi ci hanno portato Andrea grazie di essere stato con noi ma grazie anche di averci spiegato queste cose che non sapevamo su come adesso si spengono gli incendi e su come effettivamente la tecnologia se usata con discernimento con una finalità ben specifica può aiutare tante persone per cui appunto i volontari ma anche le forze dell'ordine ovviamente i vigili del fuoco e altre forze dell'ordine allora a domani ciao Andrea grazie